ok benvenuti episodio 15 se non sbaglio mi pare di sì adesso perché non ci guardo mai ma immagino siamo online perfetto storia epicentro in verità cosa cosa c'è da fare oggi con lev stiamo andando a prendere i materiali per curare sua sorella no all'ospedale dove c'è nora ok abbiamo già detto comunque chi sta seguendo sa già sa già bene e cosa è successo andando siamo arrivati all'ospedale però isaac ha scoperto che abbiamo disertato e quindi non siamo riusciti a prendere diciamo con le buone i materiali strumenti necessari per la cura e ci hanno ammanettati però no era appunto la persona che stavamo cercando perché lei sta lì all'ospedale ci potrebbe dare una mano ci ha liberati adesso ci porta di nascosto ovviamente perché abbiamo disertato appunto lei di nascosto ci ha liberati per portarci ci vuole portare al deposito insomma ai piani dove ancora non è stato ai piani in cui ancora non sono stati controllati cazzo già fortuna che sta con una dottoressa mel si è ripresa ripresa era messa male dopo aver parlato con aiz ha parlato con aiz dopo la tua partenza isaac ci ha interrogati tutti a lei è andata male qualcuno ha parlato no esatto questo è il dialogo con cui abbiamo concluso l'altro gameplay siccome stanno sgomberando l'ospedale nora ci porta nei piani ancora non controllati dove ci potrebbe essere quello che cerchiamo insomma dove andate voi due apprenderebbe la barca è pronta a partire ho ancora delle casse al secondo piano potreste prenderle voi la barca è piena dai non voglio stare qui tutto il giorno va bene grazie sono andati e tu stai bene come sempre manni era preoccupato per te sa che sono qui lo scoprirà presto dopo che me l'avrà amputato un attimo cosa è successo dopo che me l'ha ho sentito parlare di santa barbara lo sa che sono tutte cazzate però mi dispiace tanto per me sì anche a me ok qui abbiamo la terapia intensiva un centro emergenze qualche saloperatoria sembra perfetto c'è un motivo se non siamo entrati in questa zona era l'epicentro del contagio hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema sarà un inferno di funghi fantastico qua è poi dove facciamo anche l'inseguimento con nora se non sbaglio con con elli questo fosse uno degli episodi più interessanti cerca nelle ambulanze mi è già capitato di trovare scorte a porto buona idea questa soundtrack molto di tensione ok lotta per sopravvivere o per morire in fretta ci vediamo alla base presto spero già abbiamo superato molti combattimenti riusciremo a fare anche questo ok passiamo in un una sessione una sezione dell'ospedale è abbastanza safe in teoria la bottiglia serve solo per anche per le bombette quindi niente qua ancora non hanno cercato non hanno portato via nulla quindi potremmo esatto potremmo trovare quello che ci serve qua si scende ma mi ricordo c'era qualcos'altro esatto ok mamma mia si mi ricordo che c'era una stanza secondaria da esplorare dove non ci sarà praticamente nulla visto il livello vabbè un po' di alcol fa sempre bene oro cosa abbiamo qua un file casse forti cose varie un sì solo di un tizio che è morto niente di interessante non sapevano ancora niente del contagio ricordiamo che questa non è una run di lore ma una run di realismo quindi non stiamo qui a leggere tutti i biglietti però vabbè qualche curiosità si può si può dire non sembra così male infatti per ora sembra abbastanza easy terapia intensiva ok chirurgia o emergenze niente qua è bloccato andiamo oltre la cappella questo mi ricorda un sacco su resident evil 3 quando vai nella torre dell'orologio che c'è questa mini mini cappella dove gill si riposa quando è ferita è sempre un luogo comunque suggestivo però qua non si vede nulla qual'era questo vabbè non ci interessa c'è una combinazione no il giorno del contagio è stato unico quindi qua è roba vecchia perché dal contagio sono passati diversi anni quindi una bottiglia eh oppure c'ho due medici che non è male per niente pronto soccorso il centro emergenze è lì se trovate questo messaggio sono curioso hai fatto tutto il possibile quasi scavalca ok qua ci sono un po' di guai forse appunto già quando uno si mette la maschera vuol dire che non è proprio il top della situation ma che cazzo wow ok qui non si scherza pronto soccorso ok ok ti pareva non mi far prendere questi colpi questi questi in teoria non si dovrebbero staccare che io ricordi nata come dico io adesso diamo un occhio zona ambulante manca l'elettricità come al solito serve corrente un classico di giochi survival ora non è la corrente vabbè ci sta eh nel senso ok 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 ah non ho nulla per colpire ma un sacco di fazzoletti che ho al massimo ma tanto non ci faccio niente io ho bisogno di smaltire l'alcol creando uno di questi due perché con i fazzoletti si posso creare questo ma che cazzo è? controlliamo le sale operatorie nooo no ma è scomparso forse non si doveva vedere non lo so perché mi ricordo che non so non ero riuscito a vederlo con il filtro normale forbici non male io volevo vedere e slancio e questo però aumenta la stabilità a tutti io quasi 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 farei già questo e così il prossimo medipack che facciamo e sarà più forte in caso lo dovremmo fare e poi siamo qui a 70 quindi tra 50 pasticche circa ci abbiamo un'energia incrementata al massimo che è ottimale comunque siamo già a buon punto ecco nebbi siamo al giorno 2 chirurgia perfetta surgery vi sento già ma hanno sentito a me anche qui serve corrente deve esserci un generatore da qualche parte guarda che roba si riesce a vedere tutto υτiche mhm 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 Tanto le bombe ce le abbiamo 4 Quindi questo è più potente Però adesso come ci fai pensare Da cosa dipende Cioè quelli creati prima sono meno potenti O sono retroattivi con l'abilità Questa è una bella domanda Però siccome non è specificato nulla Penso che Anche quelli vecchi diventano Più potenti Credo Sennò come fai a regola montale Un'abilità del genere Eh si Non li senti Infatti dopo Sicuramente Aprendo le porte Sarà un bel guaio no? Ma noi sai cosa faremo? Ce la daremo a gambe Da qui Magari ci fosse Lev con me O Manny Sì Manny Manny sarebbe il massimo Eh Però anche Lev Manny Non so se sarebbe il massimo Il classico tizio Un po' balordo Certo buono Una buona persona Una buona persona Certo Tornino Lev E' più sincero Manny Il classico latin lover Nel vero senso della parola Esplosivi Abbiamo detto che comunque Siamo al max Quello ci serve L'alcol Ok Poi abbiamo detto Che tanto l'unica cosa Che altera il gameplay Sono I mirini ottici Però io su questo Non lo metterei Cioè Non mi sa Dello spreco Non l'ho mai usato A quel mirino ottico Questo Quasi che metterei Stabilità La balestra Faccio la velocità Di carica Qui Quanto costa Che almeno questo Mettissimo Correre Vabbè niente Stavo per dire Quello che succede dopo Quando Questo può essere utile Fidatemi Ok Perfetto E poi io farei anche Stabilità Nella balestra In caso devo fare Dei cecchinaggi Più avanti Perché non sto qui A lesinare Tanto non li uso mai L'ottami Almeno La stabilità È utile Al gameplay Perfetto Ok Ok Andiamo Andiamo Ok Adesso attenzione Perché tutte le porte Che erano Chiuse Sono aperte Quindi anche quelle Dove c'erano I nostri amici Clicker Ok Lì non mi ricordo Cosa ci fosse Cominciamo bene Comunque questo Lo possiamo fare così Tranquillamente Beh Beh Nica tanto Io ci voglio riprovare Perché secondo me Non è così impossibile Perde tempo Perde tempo Fa sta animazione qua Uno due Vai vai Ok Io qua Me l'ho anche Bloccato A difficile Perché comunque Sono Sono tanti Per poi Prendere cosa Due file Alla fine Sì La prima volta Ci sta Se vuoi prendere I documenti Leggerla Allora Però adesso Stiamo a realismo Ecco qua Io questo Che mi preoccupa Qui cosa c'era Cioè mi preoccupa Faccio finta Ovviamente Io so già Cosa c'era Aspetta Ecco Che cazzo è stato Niente panico Prendi le scorte E scappa A noi qua Non ci interessa Aspetta Volevo inviare Un attimo Se mi aspettate Due secondi A un mio amico Perché lui ha detto Che questo pezzo Gli piace molto Cos'è questo verso? E niente Andiamo a vedere Cosa c'è Al suo interno Due secondi Ho fatto Ok Ok dai ci siamo Ci siamo Andiamo a vedere Ci sono delle scorte Sì Grazie al cielo Preparati a festeggiare Poi c'è un'altra cosa Da raccogliere Questa adesso che cavolo è? Dai 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 non è non è piccolo diciamo ma mia questo è il miglior sprite del gioco via 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 non è No, no, no. Ecco, e adesso sono cavoli. Subito spappolato. E adesso vediamo, questo è il re dei ratti. Via. Il mio unico timore è che ho le risorse necessarie per sconfiggere. Io gli scarico tutto quello che ho. Oh, vedete. Oh, vedete. Oh. Grazie. No, è riuscito ad arrivare alla seconda fase. Comunque non c'ha troppa vita. Quanto bisogna scaricargli? Ok. Ah, qua c'erano ancora delle spore. Mamma mia, fortuna che c'è un checkpoint in mezzo. Comunque non sarebbe stato, in ogni caso, troppo difficile. Perché già abbiamo visto un po' secondi. Via, via, via. Qua c'è il loop. Guardalo lui. Adesso fugge. Oh! Oh! No! Cavolo, non mi caricava. Stavo lì a schiacciare. Mamma mia. Comunque non gli mancava molto, eh. Oh! No! Brutale, il re dei ratti, the rat king. Attenzione. Uno dei boss più belli, mai visti di sempre, per sempre. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Ciao. Ciao! Ciao! è a ora deve esserci un modo per uscire è facile di curarci perché poi abbiamo anche un medipack gentilmente offerto dal gioco che è qua se non sbaglio alla fine è andata easy incredibile pensavo avesse un sacco di vita però comunque giustamente il gioco non ti fa bloccare ti fa trovare un sacco di roba anche perché il lanciafiamme l'ho conservato solo per questo momento visto che è più efficace contro gli infetti però c'è un problema dove è finito lo stalker che si è che si è staccato bella domanda munizioni guarda la roba che c'era di questo fucile qua invece aspetta fammi caricare ok questo l'ho usato tutto cioè avevo tipo 16 però alla fine se non lo usi qui quando lo usi fucile a pompa solo uno incredibile no teniamo il lanciafiamme qua ok beh perché fondamentalmente si saremo pure realismo però se tu ce li hai gli oggetti cioè sono efficaci gli oggetti ovviamente eccolo forse non dovevo sparargli non so se gli ho fatto effettivamente danno però ci ho provato vedi comunque un po' di robetta c'era qua il pompa no era il fucile militare pensavo che durasse di più questo sto pezzo invece tra che abbiamo schifato il combattimento coi clicker lì i rat king li abbiamo scaricato addosso a tutto quel che c'è come mi ricordano le guide dei resident evil vecchi tipo quando c'è il boss gli scarichi tutto quello che hai accumulato visto non è durato molto qua lui è andato qua un attimo voglio vedere cosa c'è qua esatto che quella stanza lì c'è qualcosa a posto qua abbiamo detto che le bottiglie in ogni caso peccato le bombette ne abbiamo usate parecchie ma ne valsa la pena comunque mi ricordavo per il rat king c'è quel loop in stile dbd che tu scavarchi rifai lui dopo non ti colpisce mai praticamente però se te prende è giustamente donni ah lui lancia anche le bombette dove fuggi io non so messo bellissimo infatti anche se l1 l'avevo premuto ehm in luoghi angusti ho paura di affrontarlo sinceramente una bella fucilata non la toglie nessuno oh è resistente perché perché uno stalker però sembra più forte non lo so eh certo io ti gonfio di bastonate ok 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 dai c'è il rat king l'abbiamo fatto in due secondi adesso non ci facciamo spaventare da dal suo scherzo c'è il ratzino non ci facciamo non ci facciamo ah codardo usi questi tuoi stratagemmi bello l'abbiamo finito corpo a corpo con un'animazione unica si può dire dai oh mi manca un quarto di alcol dai qua abbiamo conservato bene ecco qua si esce sicuramente adesso perché non mi ricordo però vediamo se c'è da ravanare qualcosina cioè ci ho messo di più a difficile che a realismo non credibile cinquanta va bene ah qua si va avanti mi sa qua c'è qualcosa di interessante no no qua forse no direttamente qua e anche questo è fatta e anche il rat king l'abbiamo portato a casa ti stanno cercando tutti cosa hai fatto? niente ti avevo detto di aspettare e come? i tuoi amichetti sono ovunque hai quello che ci serve? sì dobbiamo solo capire come andarcene ehi seguimi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono dei bambini. Lo so. Che ci è successo? Forse abbiamo smesso di cercare la luce. Può essere. Vado a vedere come sta. Ok. 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 Sì. È tutto inutile. Non accetterà mai di venire quando non so convincere. Andiamo in fronte alle regole, per lei non so va! Owen. Sono io. Che ci fai, sveglia? Stavo cambiando le garze a Yara. Incredibile, già in piedi. Le Iene non scherzano. Perché stanno litigando? No, vaffanculo, Yara! Io non ti lancierei mano! Levo vuole restare a Seattle. Ma Owen li ha invitati a Santa Barbara. È tipico di Owen. Ormai l'avrai convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Ma non se vieni tu. Cosa? Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Iene cambia idea e si converte. Non c'entra, Owen. Vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una stronza, Abby! Lo sei sempre stata. Non sei cambiata. Vuoi aiutare quei ragazzi? Esci dalle loro vite prima di rovinarle. Sì! Cura! Abby! Bella maglia. Stai... Stai bene? Il tuo braccio... va... un po' meglio di stamattina. L'Ev si è convinto. Lo farà. Mi potresti aiutare a cercarlo? È abbastanza agitato. Certo. È corso via di qua. Sì! 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 E questo lo vedremo la prossima volta. Abbiamo... preso i materiali. Yara è stata salvata. Pur amputandole il braccio. Purtanto era l'unica soluzione secondo me. E... E niente. Vediamo cosa succede la prossima volta. Grazie di tutto e boh. Alla prossima.